Nell'entourage biancorosso nessuno vuole parlare di fuga, ma dopo la 14esima giornata di campionato il diavolo è saldamente al comando con sei lunghezze di vantaggio sulla seconda, l'alba adriatica. Nove punti nelle ultime tre gare, un teramo che finalmente vince e convince e per le inseguitrici inizia a farsi davvero dura. Il Montesilvano ed il Castelli Sangro non sono andate oltre il pari nell'ultimo confronto e solo l'alba adriatica, la sorpresa, è riuscita a tenere il passo della capolista dopo il successo ottenuto sul guardia grele, prossimo avversario dei biancorossi. La squadra di Ansivino è in crisi di risultati, solo due punti nelle ultime otto gare. In classifica vanta 12 punti, frutto di sei pareggi, due vittorie e sei sconfitte. Il teramo non dovrà correre il rischio di sottovalutare l'avversario, altrimenti potrebbe incorrere in brutte sorprese. Sono tante le assenze nelle file biancorosse, ad iniziare dal tecnico, che non potrà sedere in panchina perché è squalificato per un turno, insieme a Chiavaroli e Buonocore. Assenti per infortunio, Vitale e Bolzan, mentre Lennart David accusa qualche problema muscolare, ma dovrebbe farcela. Spazio a Difuria come centrale in difesa, mentre sulla fascia destra Colancecco prenderà il posto di Vitale. La coppia di centrocampo sarà formata da Francia e dal Fuso. L'arbitro della sfida, Michele Frasca di Sulmona. Domenico Izzotti, finalmente possiamo parlare di un teramo che viene da tre vittorie consecutive, ma soprattutto un teramo che è cresciuto sul piano del gioco. Sì, è cresciuto molto. Paradossalmente i momenti difficili, tipo Luco De Marsi e quello di Pineto, sono serviti anche a noi all'interno. Tant'è che la squadra mi pare che oggi ha svoltato sotto il profilo del gioco e anche dell'atteggiamento in campo. Guardia Grele, però hai non pochi problemi di formazione. Diversi sono gli accioccati, ci sono Buonocore e Chiavaroli che sono squalificati e anche tu dovrai scontare una giornata di squalifica. Sì, però questo è un motivo in più per vedere all'opera una squadra che è chiamata in un momento particolare, per i motivi che hai detto Tupo Canzi, a dimostrare tutto il grande carattere che ci vuole per una squadra a punto forte come il teramo, che è un obiettivo e quello di vincere il campionato. Quindi non vado in cerca di alibi, chiunque giocherà sono sicuro che darà il proprio meglio, però è normale, non vorrei che qualcuno pensasse agli assenti, perché se gli assenti non ci sono io comunque manderò in campo 11 uomini. Francia e Di Furia sono intanto allertati? Sicuramente, tutti e due giocheranno. E un'ultima cosa, di questa trasferta cosa pensi? Io temo sempre il teramo, se il teramo andrà con lo spirito giusto non penso che potremmo avere delle difficoltà. Se il teramo invece basterà i ritmi, così come ha fatto il Pineto, così come ha fatto il Lugo De Mars al secondo tempo, allora saranno guai anche Guardia Grele. Gianfranco Di Furia è arrivato a stagione in corso, poi si è dovuto fermare per via di un infortunio, un problema muscolare, ma ora credo sia tutto risolto. Sei pronto per giocare, visto che domenica Chiavaroli sarà squalificato? Sì, ancora non sono al 100%, però credo di esserci per domenica. Di questa trasferta, Guardia Grele è un teramo che vuole ulteriormente allungare in classifica, ora che vince e convince. Sì, stiamo attraversando un buon momento, giochiamo anche molto bene, speriamo di continuare così, anche se domenica ci mancano parecchie persone, non siamo al completo. Formazione di rimaneggiata, affrontata anche una squadra, tra l'altro che in crisi di risultati, soltanto due punti nelle ultime otto gare. È una squadra giovane, allenata da un buon allenatore. Tu lo conosci? Personalmente no, però conosco come lavora. È una squadra giovane che corrono tutti, sono messi bene in mezzo al campo, ci daranno sicuramente fili da torcere. Sei uno degli artefici insieme a Orta Colancecco della memorabile stagione che ha ridato così là, al Teramo Calcistica. Che noti in questo campionato di eccellenza diverso da quello della promozione, soprattutto nel gruppo ora di cui fai parte? È il gruppo più o meno come quello dell'anno scorso. Il gruppo? Sì, il gruppo è forte. Poi rispetto all'anno scorso è cambiato totalmente diverso, così gioca un po' di più a pallone rispetto all'anno scorso. No, per il resto è tutto a posto. Assente buonocore per squalifica, allora toccherà ad Alessio Francia domenica occupare quella posizione di centrocampo, insomma un ruolo delicato in mezzo al campo. Sì, cercherà di non fare piangere Gian Piero, sappiamo che lui è uno dei simboli di questo Teramo. Andremo lì a fare la nostra partita senza paura, stiamo andando bene. Mai è superato questo blocco del Teramo che pare dovesse soffrire un pochino di mal di trasferta dopo la vittoria di Roseto? No, blocco, abbiamo migliorato qualcosa, c'è sempre da migliorare nella vita, abbiamo capito gli errori. Qua è stata la cura vincente? Ci siamo rimessi tutti sotto con la testa, magari a volte pensavamo, cioè tutti quanti abbiamo capito come posso dire. Come andavano interpretate le gare? Sì, perché magari ci saltavamo e poi in trasferta trovavamo ambienti diversi rispetto a Teramo e quindi facciamo difficoltà. Abbiamo capito che fuori casa nessuno ci regalava niente, anzi tutti quanti cercano di far risultato con il Teramo. Quindi noi dovremmo essere ancora più duri quando andiamo in trasferta rispetto a in casa. Guardia Grela ora questo Teramo proverà a vincere, anche se sarà dura? Sì, sicuramente, mancherà qualcuno ma la squadra è forte, quindi andremo lì a testa alta senza paura del Guardia Grela.